Cari genitori, benvenuti. Sono Anna Maria Di Falco, dirigente scolastica in un liceo. Oggi parleremo di esami di maturità. Ormai mancano poche settimane all'inizio dell'insediamento della commissione che avrà luogo appunto il 14 giugno lunedì. Come sappiamo quest'anno le commissioni saranno formate da docenti interni e sarà esterno soltanto il presidente. Giorno 16 giugno, quindi due giorni dopo l'insediamento delle commissioni, inizieranno i colloqui. Nei due giorni di attività preparatorie si deciderà quale sarà la classe che dovrà iniziare per prima delle due affidate a ciascuna commissione e si sorteggerà la lettera per l'inizio dei colloqui. Ormai siamo veramente alle porte e dovremmo essere un po' più tranquilli quest'anno perché purtroppo a causa del perdurare della pandemia l'esame di Stato sarà costituito soltanto dal colloquio, come sappiamo, e non ci saranno le prove scritte. Invece no, perché i ragazzi invece sono presi dall'ansia, dall'ansia appunto di affrontare l'esame anche per il significato simbolico forte che esso ricopre. È il primo esame veramente importante della loro vita ed è l'esame che segna un momento di transizione dall'età adolescenziale, quindi dai banchi di scuola, alla vita adulta, all'università, all'immissione nel mondo del lavoro. E da sempre ha fatto paura a questo momento, ha fatto paura anche a noi che l'abbiamo sostenuto tanti anni fa, fa paura anche ai nostri figli. E allora è bene che noi in questo momento siamo molto vicini a loro, ma vicini rassarenandoli, non aggiungendo ansia ad ansia, perché è vero, spesso l'ansia dei figli viene vissuta dai genitori in prima persona, proprio come se fossero loro stessi a dover affrontare questo esame. E spesso anche senza volerlo, i genitori caricano di ulteriore ansia i figli, stando vicino a loro anche con domande, con un'iperprotezione che non va bene a nessuno. E allora cerchiamo di dare calma ai nostri ragazzi, rassicurandoli che è vero che è un esame importante, è vero che è un ostacolo da affrontare, ma che loro hanno tutte le risorse per poterlo fare, hanno le capacità da tirar fuori proprio per affrontare al meglio questo esame. Facciamo anche capire che non ha importanza anche la valutazione che loro riusciranno a conseguire, non carichiamoli anche di questo paese, delle aspettative che noi abbiamo nei confronti di questo diploma, ma diciamo che in qualunque modo dovesse andare anche con una valutazione non massima, in ogni caso noi crediamo in loro, noi siamo vicino a loro sempre per sostenerli. Ecco questo è molto importante. Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di contattare immediatamente la scuola e di continuare, se l'abbiamo fatto nel passato, il colloquio con i docenti, il colloquio anche con le altre mamme, gli altri papà anche dei nostri figli e per vedere un po' di che cosa hanno bisogno, come noi possiamo aiutarli. La collaborazione con la scuola è fondamentale, fondamentale per la scuola, è fondamentale per la famiglia, è fondamentale anche per i nostri ragazzi, perché l'intento è comune in quanto sia la scuola, sia la famiglia, sia i ragazzi abbiamo tutti appunto un fine comune che è quello di far progredire e di far crescere al meglio i nostri studenti, figli che affrontano appunto un momento particolare della loro vita. Quale altro consiglio possiamo dare ai genitori, quello di raccomandare ai ragazzi di cautelarsi in questo momento particolare dell'anno scolastico, di evitare qualunque tipo di rischio anche di contagio e quindi di indossare sempre la mascherina, di tenere le mani sempre igienizzate, di evitare gli assembramenti. Per chi andrà ad assistere al colloquio del proprio figlio o della propria figlia, viene raccomandato di indossare la mascherina, di utilizzare i percorsi che sono stati segnati in tutti gli istituti scolastici, di igienizzare le mani, ma soprattutto si raccomanda anche di stare un po' defilati, anche se si ascolta appunto il colloquio del figlio o della figlia, in modo da dare quella libertà al ragazzo o alla ragazza di esprimere liberamente tutto quello che sente, di valorizzare al massimo i cinque anni di studio. E con questo augurio che vi lascio, un in bocca al lupo grande ai vostri figli e anche a voi vi auguro di saper gestire al meglio l'ansia appunto per il diploma di vostro figlio o di vostra figlia. Grazie. Grazie. Grazie.